Sabato 28 maggio 2011 Mr. Night Events presenta Big Opening Summer Season 2K11 Guest star, Top Italian DJ and Producer Christian Marchi, Plus, Nari e Milani Warm Up DJs, Mr. Night Crew American Express Con le telecamere di Giassai TV Info i tavoli 338 29 54 332 338 88 69 847 Sabato 28 maggio Mr. Night Events presenta Christian Marchi With Nari e Milani Et Arenile Pool, Via Coroglio, Bagnoli, Napoli Love, Love, Love